Sa qual è il mio sogno? Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare. Io non sono stato più lo stesso dopo che ho visto quel film Flashdance con Jennifer Beats. Quella ballerina laggiù. È Jennifer Beats! Caro diario, io sto cominciando a scrivere il mio film e mi sono portato dietro tutti i miei ritagli che mi servono per il lavoro. Ecco, penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Forse quando hai scritto, girato come fosse un tripana Spielberg, entrato nei ritmi e negli spazi futuristi? Per alcune ore vago per la città. Sai cosa stavo pensando? Io stavo pensando una cosa molto triste. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. A voi? E qui. Continuo a dimagrire e di notte comincio a sudare. Io la vedo perdente. Secondo me è più un fatto psicologico. Ma guardi, io le do Istamen compresse un'ora prima di cena. Sì, tre o quattro voci. Una compressa al mattino, tira fuori la lingua. Come ti chiami? Quanti anni hai? Mi riconosci? Come mi chiamo? J.F. Bills? J.F. Bills? Sì. Di Flashdance. Sì, sì. Chi è questo? E però quelle scarpe sono molto comode. Sì, sono molto comode. I think this guy must be, um, you know, a feet maniac. Well, let's go. Beautiful. Sì, sì. Sì, sì.